Diamo il benvenuto a Emilio Foglia, responsabile commerciale d'Italia di Nevanic, al quale vogliamo chiedere com'è iniziato questo 2019. Il 2019 è iniziato particolarmente bene, nell'ottica di identificare la nostra società come boutique nel campo dell'asset management, quindi un settore sicuramente interessante, in crescita da tutti i punti di vista, con una produzione di prodotti sicuramente interessante, una diversificazione in termini di metodologie di investimento che in un'ottica futura farà sicuramente la differenza. L'Emanic si contraddistingue per la capacità di essere identificata sul mercato come asset manager di boutique, di nicchia, quindi con pochi prodotti, gestiti in maniera efficace ed efficiente, in grado di riscuotere gli interessi sia degli investitori retail che degli investitori istituzionali. Raccolta sicuramente interessante, anno 2019 che si presenta indubbiamente interessante, ma nello stesso tempo difficile, con delle prospettive interessanti per una casa come la nostra, in grado di cogliere l'attimo, reagire in maniera efficiente, con snellezza, semplicità e, mi ripeto, efficienza.